Le stesse richieste che abbiamo avanzato con l'ordinanza riproporremo stasera al tavolo col governo. Vedremo quali saranno le risposte. Ci vediamo dopo. Grazie. A voi. Se il Presidente ci invita e raccoglie la nostra proposta di un confronto, vuol dire che ha qualche risposta da dare. Dico anche la presenza di tutti questi ministri, oltre a Gualtieri, Lavorgetti, Di Maio, Corini, Micheli. Questo attiene alle scelte del Presidente del Consiglio, non certamente nostro. Noi ascolteremo. Poteri speciali al governatore. Cosa vi aspettate? Il governatore non ha chiesto poteri speciali. Mi ha chiesto soltanto di prendere atto dei diritti umanitari e quindi sanitari dei siciliani e degli stessi migranti. Vedremo, vedremo quello che uscirà fuori. Non mi faccio molte illusioni, ve lo confesso. Non si fa molte illusioni. Potrebbe essere un DPCA in un centro di tutta... non si conoscerà. Non ho idea, non ho idea. Vedremo dopo. Tutti gli argomenti che ci sono tutta qui. Cosa vi ascoltate? Ma mi piace sentire prima le risposte. Noi ci aspettiamo tanto, però sta a vedere che cosa si dice il governo. Scusate, ragazzi, almeno... Grazie. Grazie.